Ciao, sono Paolo di Backpacko e anche oggi un sacco di novità. E benvenuti al nuovo Barpacko, l'appuntamento settimanale di Backpacko del venerdì mattina con tutte le novità, le promozioni e le iniziative di Backpacko. E voglio scusarmi per l'assenza della settimana scorsa con tutti voi perché mi aspettavate, ma stavo lavorando a progetti nuovissimi e grandi per Backpacko. Presto li vedremo insieme, presto ce li gusteremo. Anche oggi è stato complicato arrivare qui per registrare perché sto sistemando il kayak. Finalmente ho ritirato il mio kayak dalla Big Mama di Frosinone e adesso lo sto personalizzando, lo sto backpackizzando, direbbe qualcuno. Beh, ci sto mettendo su tutto l'equipaggiamento che mi serve per un'avventura che comincia domani. Quando sono stato a ritirare il kayak ho anche colto l'occasione per fare qualche domanda ai ragazzi della Big Mama e capire un po' meglio quel mondo. Quindi questo fine settimana sul mio canale YouTube aspettatevi delle novità. E sempre sul canale YouTube domenica è uscito il video vlog del DD Camp, un po' il racconto di quello che abbiamo fatto con Giovanni e Ivana nel bosco a provare a testare equipaggiamenti della DD Hemox. Ecco, quello è il video che racconta un po' l'avventura, racconta il tempo passato insieme e racconta la nostra amicizia. Giovanni e Ivana sono della Ultra Survival and Rescue, una scuola di sopravvivenza che frequento e mi danno sempre degli ottimi consigli. E veniamo a noi, veniamo a Backpacko perché con gli ordini superiori ai 100 euro questa settimana è in regalo del Fatwood. Ecco, il Fatwood è un legno resinoso, un'essenza oleosa, resinosa, profumatissimo, si utilizza per accendere il fuoco. È sempre bello utilizzare quello che troviamo in natura o procurarci qualcosa di naturale per giocarci. Prendete il vostro coltello e... Wow! Prendete il vostro coltello e vi fate dei feather stick, dei ricciolini di legno. Ora io sono un po' scomodo, non voglio rovinare il bancone, ma ci siamo capiti. Bisogna sfibrarlo. Ora c'è chi è tanto bravo e li fa tutti belli e magari li mette su Instagram. C'è chi deve accendere il fuoco e quindi gratta un po' il legno. Si sfibra e in questo modo se ne fate un mucchietto con l'acciarino poi date subito fuoco e avete un'esca pronta e naturale. E vi profuma tutto lo zaino. Con gli ordini superiori ai 100€ su Backpacko.it Questa settimana, ve l'ho detto, sono un po' impegnato con la mia avventura in kayak. Quindi le uscite sono un po' disordinate, mi perdonerete. Ma ci sono comunque tante belle cose da vedere e cominciamo con lo Shemag. Lo Shemag o lo Shmag, questo del nuovo marchio prodato su Backpacko, Pentagon. È un'azienda greca che produce vestiti e accessori tattici comodissimi, fatti bene. Li vedremo a fondo uno per uno. Per il momento lo Shmag, lo Shemag. Ok ragazzi, ci sono tanti modi per dirlo correttamente, ma il primo modo che avete usato nella vita vi resta attaccato e di solito è difficile sovrascriverlo. Per me è sempre stato lo Shemag. Lo Shemag è un tessuto di cotone fatto così, abbastanza grande, ok? Da poter essere utilizzato in tantissimi modi. Mi avete sicuramente visto vestirlo nel modo forse più semplice, più pratico per me, che è quello di fare un triangolo, alla buona così, eh? Non stiamo mica andando a una serata di gala. Ora si sentirà il microfono rovinosamente coinvolto, ma vi voglio far vedere solo come lo metto io di solito, perché faccio un giro così, un altro così, se ho voglia, metto dentro anche i lembi e ho la mia sciarpetta. Questo è solo uno dei modi per utilizzare uno Shemag, ma ce ne sono tantissimi. E ho chiesto a una persona speciale, molto esperta in questo tipo di argomenti, di spiegarceli. Troverete le sue spiegazioni sulla pagina del prodotto, su Backpack.it e in giro per i social. Presto capirete chi è. Questi Shemag della Pentagon sono tutti in cotone 100%, fatti in Grecia, disegno completamente fighissimo. Cosa vi devo dire? Qui si vede l'emblema di Pentagon, l'elmetto di uno spartano, questo è il coyote. Poi c'è il black, loro lo chiamano con questa variegatura, quest'altra colore in grigio, blu, tungsteno, non saprei, comunque strafigo anche lui. E in camo lo chiamano così, in realtà è un verde, è nero, verde, bellissimo. Ve li metto così, ve li guardate tutti. Tutti i colori a disposizione. Coyote, black e camo. Un Shemag è troppo utile, lo si porta sempre nello zaino. Sulla pagina del prodotto, su Backpack.it, troverete poi qualche curiosità, qualche informazione in più, su perché sono diventati così famosi e perché non riusciamo più a farne a meno. Gli Shemag di Pentagon, a cui diamo il benvenuto tra i nuovi marchi di Backpack. Quante cose belle che vedremo. Ma i nuovi marchi questa settimana non finiscono qui, perché abbiamo introdotto anche Stanley. Stanley ve l'ho presentato altre volte, è un marchio che mi avete visto usare tantissimo. Fa cestori, termos, cestini per il cibo, per l'outdoor. E a noi che amiamo vivere l'outdoor in tutta comodità, beh, una borraccia termica risulta comodissima. Tra l'altro, utile anche in ufficio, a lavoro. Insomma, tutte quelle occasioni in cui volete avere con voi dell'acqua fresca. Bene, queste borracce sono della serie Go di Stanley. La Quick Flip è una borraccia con il suo gancetto. Potete appenderla o tirarla fuori dallo zaino attraverso il gancetto. Una sicura che evita l'apertura accidentale del coperchio e... Avete visto che bello? Ve lo rifaccio. E bevete. Ecco, l'apertura è generosa. Vi permette di bere grandi sorsate. Questa è una cosa che apprezzo sempre tantissimo. Quando avete fatto, richiudete, scatta e se dovete trasportarla nello zaino, bloccate la sicura e non si apre più. Sono borracce, dicevo, termiche. Conservano la temperatura fino a 12 ore dell'acqua. Se ci mettete anche del ghiaccio, si arriva a due giorni e mezzo. Una cosa da pazzi, ma due giorni e mezzo, ragazzi. E dopo una giornata di utilizzo, magari volete lavarla, la aprite completamente, svitate il coperchio, la aprite così e la lasciate in lavastoviglie. Doppia parete d'acciaio con una intercapedine con il vuoto. Ebbene, è il segreto per mantenere fresca la vostra bevanda. L'acqua frizzante ci sta benissimo. Quando la aprite fate attenzione che fa un bel pop, ma è perfetta così. Quindi i vantaggi particolari di questa borraccia sono che funziona estremamente bene nel mantenere fredde le bevande. È comodissima da lavare e ricaricare. Si apre con una mano sola quando state guidando. Fate così, bevete e la rimettete a posto senza problemi. Io la trovo eccezionale. La uso al poligono, la uso in giro, la uso nei trekking leggeri. È vero, pesa di più di una borraccia in titanio, in plastica o anche solo in acciaio con una sola parete. Però avete l'acqua fresca? Regoliamoci un po'. Io preferisco l'acqua fresca finché posso. Le capacità sono da 700, da 0,47 e da 1,06 litro. Sono tutte ottime. Ovviamente questa piccolina va bene per esempio per i bambini, la portano da soli, bevono sempre qualcosa di fresco. questa è la più indicata per tutte le esigenze perché ha una sezione che sta nel portabibite della macchina, almeno nel mio. Mentre questa è quella più impegnativa, ottima per le avventure, per i trekking. Ma sulla pagina del prodotto, su backpack.it, trovate tutte le informazioni anche sulle dimensioni. Qualcuno si chiederà se sono utili anche per trasportare le bibite calde? No, no, perché ve lo sconsiglio in quanto per l'erogazione delle bibite calde sono necessari degli accorgimenti di sicurezza e questa è una borraccia pensata per le bibite fredde. I termos per le bibite calde arriveranno al momento giusto, ma non credo che adesso abbiamo quell'esigenza lì. Anzi, fa caldissimo. E finalmente un nuovo prodotto di DD Amox, la Chill Out, l'amaca per non pensarci più. DD Amox produce molte amache con tante caratteristiche, accessori e possibilità di impiego, ma la Chill Out è quella che vorrete avere nei momenti di puro relax. Io ne ho sempre una in macchina, quando mi trovo a passare in un paesaggio particolarmente attraente, cerco due alberelli, mi stendo l'amaca e se sono fortunato ho anche una bibita fresca tipo nel biotermos e nella Chill Out trovate anche una taschina portabirra, portabibita. Presto sarà disponibile il video su come sistemarla tra due alberi e godersela, ma le istruzioni sono già presenti sulla pagina del prodotto. Questa io non la ritengo neanche un'amaca, è una terapia. È una cosa da prendere, usare e godersi un attimo di pace. I colori disponibili sono fantastici, Sunset Orange, Electric Blue e Olive Green, il classico colore di DD Ammox. Bene, sceglietevi il colore che vi pare, ma non perdetevi questa bellissima amaca. È incredibile il benessere che vi donano 30 o 40 minuti passati così tra due alberi. E per il patch edì di questa settimana torna Maxpedition, però in salsa greca. Vi ho presentato Pentagon e non poteva mancare nella nostra collezione la patch di Maxpedition dedicata agli spartani, Molon Labbe. Molti di noi saranno legati a questa faccenda più per il film 300 che non per la storia, ma Plutarco racconta che quando l'emmissario di Cerse chiese agli spartani di deporre le armi, Leonida, il re degli spartani, disse Molon Labbe. Ora, non sono sicuro si pronunce in questo modo, ma il significato è vieni a prenderle. Ecco, questa patch con uno spartano vestito dell'elmo ci ricorda proprio quell'episodio lì e ci fa sentire tutti un po' più tosti. Per i nostri zaini, per i nostri accessori, Maxpedition, Molon Labbe. E finalmente ragazzi è arrivato anche a me il nuovo libro di Fabio Filomeni e Luca Munaretto, Professione Incursore. Fabio e Luca sono stati degli incursori e chi meglio di loro ci può raccontare il mondo degli incursori. Bene, non è proprio un libro che racconta il mondo degli incursori e basta. È il libro che avremmo tutti voluto avere in quel momento in cui avremmo deciso di diventare pure noi incursori. io sono sicuro che in tantissimi di voi, ebbè, me compreso, è spuntato a un certo punto il desiderio di diventare un incursore. Bene, non tutti abbiamo portato avanti quel desiderio, questo è evidente, ma se avessimo avuto un libro come questo almeno avremmo saputo da subito cosa ci aspettava, come prepararci e magari qualcuno di noi, qualcuno in più di noi ce l'avrebbe fatta, perché questo è un manuale che spiega proprio l'iter di selezione l'impiego degli incursori, degli incursori quelli originali, quelli del nono, ok, del colmoskin. E io credo che in un libro come questo ci si possano trovare diversi spunti anche per affrontare delle avventure particolari. Si parla di allenamento, si parla di selezione, si parla di psicologia, si parla di preparazione, poi certo si parla di come funziona il nono, quella è la parte che mi incuriosisce e che leggo per curiosità, ma tutta la prima parte del libro che parla dell'atteggiamento, dell'essere un incursore, di come allenarsi per superare le selezioni, beh, quello non è un percorso tanto diverso da quello di chi vuole vivere delle avventure particolari. Di fatto un soldato spesso si muove con dei carichi pesanti, spesso si muove in ambiente impervio, spesso deve cavarsela in situazioni complicate. Magari voglio vivere delle avventure più complicate, più pericolose, bisogna ispirarsi a qualcuno che magari per professione fa tante di quelle cose. In descrizione trovate il link per acquistare questo fantastico libro che vi consiglio, io non l'ho ancora finito, ma fin dove sono arrivato è già tutto consigliato, quindi non ve ne pentirete. Una lettura estiva, bellissimo, ma c'è un'altra occasione speciale in cui possiamo vederci e parlare di questo libro e sono i Veteran Days. Il 16 e il 17 settembre a Verona Bec Pacco parteciperà al Veteran Days con Luca Moneretto e Alfa 22. Con quelle che possiamo definire le nostre operazioni speciali, faremo del nostro meglio e presto potrò raccontarvi anche come. Intanto Professione Incursore è un libro che riesce ad ispirarvi, io ve lo consiglio. Quindi conosciamo questo reparto, conosciamo questi ragazzi e con orgoglio e con rispetto, con estrema curiosità e piacere entriamo nel nono come ospiti a dare un'occhiata. Io ringrazio tantissimo Luca Moneretto e Fabio Filomeni che hanno scritto questo libro perché ci danno la possibilità di affiancare queste realtà e soprattutto tanti dei giovani che come me per un attimo hanno pensato di fare gli incursori nella vita magari troveranno un libro che gli spiega come fare e magari proprio grazie a questo catalizzatore qui diventeranno degli ottimi membri del nono. E per il tea day di questa settimana è il giorno in cui spunta una nuova t-shirt su backpacko.it Offroad Dreaming questa di 5-11 venne una bellissima maglia di colore azzurrino con un fuoristrada super attrezzato e la scritta Always Be Ready che ci ricorda come ci piace vivere. Ebbene con una macchina attrezzata in questo modo con un fuoristrada così io mi sentirei pronto per tutta una serie di avventure e anche per qualche disavventura perché no. Adesso scappo e vado a finire di sistemare il kayak anzi perché non venite con me vi faccio vedere il cantiere nautico e come l'ho un po' organizzato dai andiamo azzurrino 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.